Il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, insieme a Stefano Costa, responsabile provinciale del partito di Renzi, hanno spiegato i motivi dell'interpellanza presentata da Borghi al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulla situazione occupazionale di 23 dipendenti del gruppo DB Italia, lavoratori che dal 12 dicembre dovrebbero essere spostati in altri siti. Grazie per la visione!